E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono XMet96 e oggi ragazzi come avrete letto dal titolo andiamo a vedere insieme come migliorare la vostra connessione su PS4 Prima di fare ciò ragazzi mi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto attivate anche la campanellina e inoltre condividete il video con tutti i vostri amici Questo consiglio che voglio dare oggi ragazzi voglio subito dire che appunto il miglioramento che ci sarà non sarà un miglioramento notevole ma appunto la vostra connessione può migliorare di 1 MB a 2 MB e magari avere un ping migliore nel gioco Quindi è un consiglio che posso dare più a chi non ha una fibra ma ancora magari una connessione DSL Per fare ciò appunto dovete andare sulle impostazioni della Playstation e andiamo a modificare appunto la configurazione della vostra connessione modificando il DNS Di video come questi ragazzi su Youtube diciamo che già ci sono e ci sono anche da parecchio tempo, magari non tutti conoscono questo modo di configurare la Play perciò diciamo lo sto riportando Allora dobbiamo andare su configura connessione, poi qui mettete il vostro tipo di configurazione, nel mio caso utilizzo appunto il Wi-Fi quindi faccio la configurazione tramite Wi-Fi Se avete appunto il cavo LAN vi configurate tramite il cavo LAN Allora dobbiamo mettere configurazione personalizzata Dopodiché scegliete la vostra connessione Se vi chiederà la password ragazzi dovrete mettere la password del vostro modem quindi della vostra linea Vi chiederà l'indirizzo IP, mettete automatico, di hcp non specificare e qui dobbiamo mettere invece manuale Dopodiché ragazzi appunto vi chiederà appunto di modificare questi due parametri dei server DNS Vi lascerò qui due tipi di server DNS ovvero quelli della Google e quelli della OpenDNS Io vi consiglio appunto di provarli tutti e due Cioè provarli in gioco su un gioco tipo Fortnite o Rocket League Appunto dei giochi dove è possibile vedere il ping Se è magari più stabile, è più basso eccetera eccetera E scegliere voi appunto il server DNS più adatto alla vostra zona Appunto ragazzi questi sono i primi server DNS della Google Quindi provate prima questi Quindi DNS primario 8.8.8.8 e DNS secondario 8.8.4.4 Una volta che l'avete messo andate su avanti Mettete MTU automatico Altrimenti ragazzi se lo volete fare manuale mettete 1490 Tra i 1490 e i 1500 Io metto automatico perché ragazzi non me da problemi Dopo mettiamo non usare e verifica connessione internet Appunto questi sono i risultati che mi ha dato Quindi 24 mega in scaricamento e 2 in caricamento Mentre questi ragazzi sono gli altri codici server DNS della OpenDNS Quindi una volta che avete provati quelli dalla Google Vi consiglio di provare anche questi qui Ve li scrivo sullo schermo Questo ragazzi è un po' più lungo Andiamo avanti Mettiamo sempre automatico Non usare E verifichiamo la connessione Io ragazzi nel mio caso appunto non li sto provando in gioco Ma è una cosa che vi consiglio di fare a voi Perché certamente magari a me potrebbe andare meglio uno rispetto l'altro Infatti diciamo che sono molto simili Qui abbiamo 20 mega in scaricamento e 4 in caricamento Ma ripeto guardate il ping Vi ricordo inoltre che il ping più è basso e meglio è la vostra connessione Cioè più è stabile E io ragazzi spero che questo video vi sia stato utile Vi invito a lasciare un bel pollicione in su Iscrivetevi Attivate la campanellina mi raccomando Mi scuso solamente per le riprese Perché l'unico modo per registrarlo era con il telefono O una telecamera esterna Perché la schermata della home non si può registrare con la modalità share E quindi raya Qui da XMAT è tutto Bella raya Grazie a tutti